Benvenuti in Esprit. Esprit è un marchio di moda internazionale noto per la sua produzione di abbigliamento, accessori e orologi di alta qualità. Fondata nel 1968 da Susie e Doug Tompkins a San Francisco, in California. Gli orologi Esprit sono famosi per il loro design contemporaneo e alla moda, con una vasta gamma di stili che spaziano dall'elegante al classico. Molti degli orologi presentano funzioni come cronografi, calendari e resistenza all'acqua, e sono realizzati con materiali di alta qualità come acciaio inossidabile, pelle e vetro minerale. Gli orologi Esprit sono prodotti con materiali di alta qualità e sono progettati per durare nel tempo. Il marchio si impegna a utilizzare materiali sostenibili, per ridurre l'impatto ambientale della produzione. Inoltre, Esprit aderisce a rigorosi standard di produzione, che garantiscono il rispetto delle norme ambientali e sociali. Gli orologi Esprit sono disponibili in una vasta gamma di stili, per soddisfare ogni esigenza di stile e di funzionalità. Il marchio offre orologi per uomini e donne, con caratteristiche come la resistenza all'acqua fino a 100 metri, il cronografo e il calendario. Gli orologi Esprit sono anche dotati di cinturini intercambiabili, per personalizzare il proprio stile. Tra i modelli più famosi degli orologi Esprit, troviamo la linea Ocean, caratterizzata dalla sua resistenza all'acqua fino a 100 metri e dal suo design sportivo. La linea Essential, invece, è caratterizzata dalla sua eleganza e dal suo design minimalista. Gli orologi Esprit sono un'ottima scelta per chi cerca un accessorio funzionale, senza rinunciare alla sostenibilità ambientale. Grazie alla loro alta qualità, i prodotti Esprit durano nel tempo, consentendo di ridurre l'impatto ambientale della produzione e di risparmiare denaro a lungo termine. In conclusione, Esprit è un marchio rinomato per i suoi orologi di alta qualità. Grazie al suo impegno per la sostenibilità ambientale e alla sua vasta gamma di stili, Esprit è una scelta perfetta per chi vuole un orologio di alta qualità, che duri nel tempo e rispetti l'ambiente.